Brutte notizie per chi vive in montagna per quanto riguarda il riscaldamento. Sì, una stangata perché la misura che avevo introdotto io ormai oltre dieci anni fa, ovvero l'agevolazione sul riscaldamento per il gasolio e il GPL, viene tolta, è stata completamente cancellata dal 2015 e per l'anno prossimo drasticamente ridotta. Questo significava molto in termini di agevolazione per le famiglie Camune, soprattutto quelle dei comuni più freddi che potevano contare su 140 euro di sconto ogni 1000 euro di acquisto. Quindi è una cosa importante che purtroppo il governo Renzi ci ha tolto. Ancora una volta si dimentica quindi delle zone di montagna? Ma sì, questo ormai è un dato di fatto, la montagna non fa parte dell'agenda di questo governo, dei Camuni e della gente di montagna, questo governo a PD non ne frega assolutamente niente.